Sicuramente ci sono tanti dati che sono significativi, alcuni però emergono rispetto ad altri. L'evoluzione dell'immigrazione a Messina, nel tipo che in questi ultimi dieci anni c'è stato un incremento notevolissimo degli immigrati, ma ancora di più di seconda generazione, cioè di coloro che sono nati a Messina, vivono a Messina e hanno le usanze e i costumi messinesi. Questi non hanno però la cittadinanza italiana e sono un grosso numero, tutti giovanissimi, giovani, sono circa 1600 e questi saranno i giovani del futuro, cioè Messina punterà anche su questa fascia, è molto importante, perciò bisognerà predisporre delle attività economiche e sociali che vadano incontro anche alle loro esigenze. E' stata fatta anche una distribuzione per municipalità e si è visto che per esempio moltissimi stranieri residenti sono collocati proprio nelle fasce centrali, cioè negli quartieri centrali, quarto, terzo, quinto e questo anche per il loro servizio, per le attività che si svolgono a servizio della persona, la maggioranza di loro o comunque della casa e questo dà un'idea anche del loro essere integrati a livello socialmente, più nel centro città che in periferia. Grazie a tutti.